Finalmente siamo arrivati ai 300 iscritti Ok, ok, non lo do Che fare? Siamo arrivati ai 300 iscritti Voilà, coreano Dove... Grazie Grazie, sono super contento So che oggi pomeriggio torneremo a 299 perché sempre la vita fa Però vedere questo mi emoziona Mi emoziona Era l'obiettivo di marzo E ci arriviamo il 2 di aprile Sì, cazzo, sì Oggi dovevo uscire un altro video In cui mi chiamo Chris Rock Ma slitta Domani c'è un vlog Non mi sto a raccontare questo video Sono 10 grazie Lo speciale figo Si arriva C'è un'idea della madonna Che ho in elaborazione da qualche mese Io vi faccio un piccolo spoilerino Il mio prodotto Apple preferito C'entrano un po' loro È veramente un bel progetto Sono contentissimo Ieri è uscito il video sulla terza storia di questo canale E proprio sulla terra perché la storia è 3 Siamo a 300 400 Dai, speriamo di raggiungerli il prima possibile Siamo a metà del mio obiettivo dell'anno Perché il mio obiettivo per fine anno erano i 600 Quindi stonks Grazie veramente a tutti Anche se ultimamente le visualizzazioni stanno carando di brutto Infatti per favore Dai, sopportate questo canale Iscrivete Guardate i video Che C'è un sacco di produzioni Soccose Non vado a dimostrarvele Il video di domani Esce alle 20 Perché il vlog della domenica Esce alle 20 Il vlog Cazzone La settimana Esce alle 20 C'è tante cose di cui parlarvi Oggi dovrebbe uscire anche un video Su Moon Knight Però mi sa che Ve lo farò uscire giovedì In cui vi parlo dei primi due episodi Sul secondo canale Arriverà purtroppo il video su Morbius Film veramente a proche Ma non vi voglio parlare Non vi voglio stufare con queste cose Grazie L'ultimo iscritto che si è iscritto È mio padre con un altro account Non so di chi Perché mi ha appena scritto Sei arrivato di 300 Quindi penso sia stato lui Grazie Ci vuole bene E voglio dire a tutte le persone che mi hanno supportato A lui A chi l'ha reso possibile A chi ha reso possibile questo canale Quindi a mia amica I miei amici Che magari mi hanno supportato A tutte le persone che mi hanno aiutato A tutte le persone che compaiono nei video Tutti Finalmente almeno 20 persone di questi iscritti Sono Account Account vari Account scolastico Account dei miei amici A cui l'ho chiesto di iscriversi Però considerando che i primi I primi 100 L'abbiamo fatti in un anno In più di un anno I 200 li abbiamo fatti in un mese Neanche In qualche giorno 400 quando li facciamo Dai 300 ci abbiamo messo un po' Ma sono dettagli Dai Lo su tre mesi E per chi non mi rende la finanza L'importante Perché poi io mi dico sempre Vabbè Sì 300 Ma almeno Sono 280 270 Proprio solamente o male 250 Sono persone che non mi conoscono Sono persone che si sono iscritte Perché hanno visto questo canale Sono persone Di cui non faccio nomi Che magari Mi seguono Da quando ho 50 iscritti E Grazie di tutto Veramente E ora Basta Lasciate like per favore Grazie Domani c'è un video bello Ciao 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 Ciao